Ciao ragazzi, sono Mattia Martini, manager consulente di calcio mercato. Quest'oggi dovremo disputare una partita che vale una finale di Champions League. Uniti dovremo andare in gol per far pervenire una parte dei diritti televisivi alle nostre società. Cosa aspettate? Ve lo dicono in toscano. E che buffate? Indietreggiate? Andate su www.calciodonne.it e firmate questa petizione.